Ciao a tutti ragazzi sono me fa bentornati in questo nuovissimo video di Akinator Dopo veramente tanto tempo ragazzi siamo tornati su Akinator Let's play ETA A che pensiamo ragazzi? Sapete a che pensiamo ve lo dico io All'amico immaginario di Akinator Chissà chi è non lo so nemmeno io ma ci pensiamo È un cantante? Non lo so Vola su un tappeto volante? Non lo posso sapere Il suo personaggio beve acqua? Beh penso proprio di sì Il suo personaggio ama il gelato? Beh dai chi è che non ama il gelato? Il suo personaggio mangia la carne? Sì C'è intelligentissimo Boh Giusto così se tu fossi in un tema di italiano O il tema di terza media Probabilmente ti avrebbero già canato Se la grammatica manca anche nei videogiochi Siamo messi proprio bene direi Però diciamoli sì dai Appare in rat chat e clank 4 gladiator No Ha molte abilità Perché no? Sì È ermafrodita Che caspita significa? Dico di no anche se non so cosa vuol dire Ehi correggi Correggi È bravo nella sua disciplina Beh ad essere un amico immaginario Sì Faceva parte dell'arabbia fenice Ecco non chiedetemi perché abbia detto finis Al posto di arabia fenice Sì lo ammetto L'ho pronunciato all'inglese Finis Finisce Vabbè poco importa No È maggiore n sì È rimasto un po' di ciò Non direi di no G spesso capra Capra Boh A meno che non sia fissato con le capra Non abbia problemi Non abbia problemi mentali O così direi di no Capra Boh Ha a che fare con gli indie horror È scioccato anche lui Quindi direi di no È italiano No È reale No Fa parte di un gratone No Ehm No Ci è andato vicino però È già tanto che abbia detto il papa Papà Papà Di Akinator Comunque sia no Fa parte di un videogioco Sì Tra virgolette Ha i capelli Sì dai Anche se possa non essere un optional Ma diciamo di sì Ha un cellulare Boh È il protagonista dell'opera in cui appare No È informatico No Se no mi avrebbe già creato il pc a momenti Sappiatelo Attualmente ha più di 40 anni Sì È un supereroe No Più o meno Non so come te lo immagini Ci sto pensando anche lui È come se lo immagina Il suo personaggio immaginarile Tanto così per dire Comunque no Indossa le scarpe Non necessariamente Probabilmente Sì Fa parte di un videogioco Ha i capelli What? Cambio le sue gambe No No Cosa ho fatto? No Non dirmi che devo iniziare tutto da capo Ti prego Ha una corona Boh Non lo so Non lo so E io mi devo divertire a fare ste robe Boh Non lo so ragazzi È morto a metà Scusami Cioè voglio dire Da quando la gente muore a metà Non ho capito Cioè Cosa vuol dire? Cioè Lo tagli a metà Una parte muore E l'altra rimane viva Cioè Non rispondiamo a ste domande Gioca ad Happy Wheels Non è 5J È leggermente sovrappeso No Fa parte del genere horror no? Eeeh No Non è lui Continuare sì Ma come fai a non indovinarlo? È un comico? No Non è un comico Vive negli USA No O meglio Sì Credo E no tu con il soprannome di Johnny Devi saperlo tu Ha a che fare con Leonardo DiCaprio? No No Sì Sì No 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 Non lo so No Non ce l'ha fatta ragazzi Quindi ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Non ce l'ha fatta Che ne ho reni Spolciate Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Sempre non la vedevate Non ci vedo nel prossimo video Qua da me è tutto Ciao ragazzi Perché proprio lui? Perché? Perché? Perché?